Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video di fashion. Oggi ho finito venuto alla piattaforma Zara che si è riopendato, quindi potrei mostrare le notizie nella piattaforma dopo la riopendita. Ho provato 7 piattaformi, quindi qui sto con il primo piattaforma. Il primo piattaforma è questo bellissimo white flounced midi. Il piattaforma ha piccoli occhi, un po' per il cuore e è creato completamente di tulle con un lineamento. A partecipare c'è un belto nero con un sacco metallico e a partecipare c'è una scuola con un botto. Mi piace davvero questa piattaforma, credo che mi piace abbastanza bene, non è troppo lunga, mi piace la linea della piattaforma e credo sia perfetto per l'anno e l'anno. bei un'annuna e del calma Grazie a tutti. 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 v-neck and short balloon sleeves. There is a seam under the breeze and a black plate print on a blue background. The dress is very comfy and fresh to wear. It's made of 100% cotton. It's great with a black waist belt like this elastic belt that I wear today, but I don't know if this print is good for spring or summer. Okay guys, and that's all for today's video. If you like, please leave a thumbs up, subscribe to the channel, and see you in the next video. Goodbye!